ciao a tutti ragazzi io sono maki ed eccoci qui con un nuovo esaltantissimo video è uscito praticamente da pochissimo il trailer del nuovo staff pack giorno di bucato che praticamente lo staff pack che i creatori sviluppatori di the sims hanno creato insieme alla comunità quindi noi abbiamo scelto il tema abbiamo scelto diverse diversi oggetti da da mettere nel pack eccetera eccetera quindi è finalmente completo lo aspettavamo tutti da un sacco di tempo quindi io sono felicissima ho già visto il trailer però volevo vederlo anche insieme a voi così vediamo insieme tutte le cosine nuove soltanto che devo disattivare l'audio perché non so se c'è copyright qualcosa del genere quindi io lo disattivo però se lo volete vedere con l'audio che è peraltro divertentissimo ragazzi quindi vi consiglio comunque di vedervelo poi per contro per conto vostro vi lascio il link nella descrizione allora vediamolo subito intanto vabbè qua possiamo vedere che ci sono questi nuovi capelli la sim è stupenda comunque peraltro ma questi nuovi capelli che sono bellissimi e poi vedo che ha dei nuovi vestiti però non riusciamo a vedere ancora nulla quindi vediamo un po allora è arrivato il giorno qua nuovi capelli e nuovi vestiti fantastico allora in cui si compirà il tuo destino altri nuovi capelli nuovi vestiti e riempirei la cesta della biancheria ok qui guardate quante cose allora allora fermi fermi intanto questa cosa è fantastica poi i nuovi mobili ragazzi guardate quanti nuovi mobili la nuova finestra cioè adoro poi questi così qua cioè sembrano cosa sono tipo piantine spezie non lo so però adoro terribilmente poi i nuovi vestiti sono pure stupendi e questi mi sembrano anche dei nuovi tappeti poi qua ci sono tipo delle ceste bellissimo andiamo avanti allora qui praticamente lui ha odorato la maglietta e puzzava e questa è una cosa molto carina guardate qua allora lavandino lavandino nuovo bellissimo nuovi fiori nuove piante tappeto nuovo la lavatrice ragazzi la lavatrice non vedo l'ora di utilizzarla e poi nuovi mobili qui anche tipo cose per il bucato appunto bellissimo bellissimo guardate pure qua allora questo è un ferro da stiro non so se si possono usare i ferri da stiro non credo perché nel trailer non l'hanno fatto vedere questa interazione così però anche che è decorativo mi piace tanto poi qui queste ceste il sapone tutti i vestiti puliti le scope ragazzi guardate qua adoro adoro questo serve per rendere le case più realistica cioè io adoro alla follia la nuova porta cioè wow e non so se anche la parete il colore della parete è nuovo perché non me lo ricordo però può darsi che non sia nuovo non ne sono sicura comunque andiamo avanti ok aspetta voglio vedere qua i nuovi mobili ragazzi io adoro cesta per il bucato questo mi sembra pure un nuovo tappeto vabbè le lavatrici non so se sono tipo lavatrice asciugatrice e così via onestate non ne sono sicura poi vabbè sempre nuovi mobili quest'altro lavandino bellissimo qui c'è il ferro da stiro tovaie cioè bellissimo bellissimo davvero poi qui lei ha questo nuovo abito che io adoro sta portando i panni sporchi poi vediamo ecco qua sta mettendo le cose nella lavatrice ok benissimo acqua praticamente fanno vedere che anche i bambini possono fare la lavatrice forse e penso anche gli adolescenti qui lui forse si sta odorando e sta sentendo di dover lavare i suoi vestiti aspettate rivediamo sì mi sa che tipo si è accorto che deve lavare i vestiti questo mi sembra un nuovo un nuovo scaffale però non ne sono tanto sicura comunque adoro non so se questo è pure un nuovo vestito però sembra di sì quindi non vedo l'ora di vederlo poi poi vediamo qua questa se non sbaglio è una nuova interazione però non ne sono sicura e guardate la bebe che può giocare con l'acqua per niente bellissimo bellissimo guardate qua poi ovviamente le lavatrici si possono rompere e sarà molto divertente poi i vestiti si possono anche lavare a mano che secondo me è una cosa bellissima che hanno aggiunto e poi forse lui sta cercando dei vestiti nei panni sporchi non ne sono molto sicura adoro guardate qua cioè aspetta 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 vai indietro perché cioè queste non so se sono nuove finestre o se sono quelle che abbiamo già nel gioco però spero siano nuove perché sembrano quelle che hanno aggiunto diciamo per i bebè però non so sembrano più grandi io spero che siano nuove perché magari così hanno aggiunto tipo dei nuovi colori non lo so comunque un sacco di nuove piante che adoro i tappeti che non ho capito se questi tappeti poi ci saranno anche tipo divisi tra di loro perché credo che questo sia tipo tutto un pezzo unico però non ne sono sicura adoro anche questo adoro tutto cioè bellissimo veramente stupendo e guardate qua il tavolo le se no allora non vedo l'ora c'è pure questa non l'avevo notata fermi la lampada così niente bellissimo poi qui si può stendere il bucato niente ragazzi non vedo l'ora assolutamente guardate qua lui si sta lavando i panni li sta asciugando bravissimo si sente tutto soddisfatto bellissima questa cosa allora fa il bucato e quindi abbiamo questi due modi di fare il bucato costruisci una casa e ci sono tutti gli oggetti che abbiamo visto e vestiti in stile campagnolo guardate quanti vestiti cioè io non vedo l'ora ed è disponibile il 16 gennaio cioè allora non vedo l'ora cioè il 16 gennaio è praticamente tipo la settimana prossima sì è martedì credo sia martedì cioè martedì non vedo l'ora ragazzi non vedo l'ora cioè fantastico non so diciamo che quando si è trattato di votare per il pack da fare con la comunità diciamo visto che molti erano arrabbiati del fatto che fosse uscito questo del bucato però io sono contentissima perché io aspettavo il bucato da sempre perché anche in the sims 3 è una cosa che mi piaceva fare tipo tantissimo e poi mi piacciono proprio queste cose che rendono il gioco più realistico quindi veramente non vedo l'ora non vedo l'ora di far fare il bucate mi sembra una cosa tipo stranissima però è così non vedo l'ora e fatemi sapere che cosa ne pensate voi perché io veramente sono casatissima lo prenderò tipo subito e niente quindi vi mando un bacio enorme vi ricordo di mettere mi piace di commentare di iscrivervi al canale se questo video vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video ciao